Buongiorno, buon lunedì mattina, ben ritrovati per questa prima rassegna stampa della settimana. Occhio ai giornali, puntualmente alle 7.30 tutte le mattine siamo qui insieme a voi per farvi vedere le notizie principali dei giornali. Oggi è lunedì, come sapete fogliazione particolare, un po' ridotta per cronache ed eventi, ma grande spazio naturalmente al tuo sport che nel fine settimana ha imperversato in lungo e in largo con i risultati. Ma naturalmente noi faremo questo non prima di aver salutato anche gli amici collegati su internet, sempre numerosi, sempre fedelissimi che ci seguono via web. Ma facciamo come sempre le cose in ordine, guardiamo l'almanaco il giorno di oggi, che cosa ci propone come calendario. Lunedì 30 aprile, San Giuseppe Benedetto Cotolengo, sacerdote. Il sole è sorto alle 6.02 e tramonterà alle 20.08. Previsioni del tempo, previsioni del tempo che immagino voi aspettiate con grande fervore perché volete sapere che tempo farà domani, ma tanto ormai avrete consultato tutti i siti possibili e immaginabili. Io vi do quello che è il prospetto della protezione civile delle Marche per oggi e domani. Previsioni per oggi, mezza festa, giorno prima della festa del primo maggio, quindi un po' di ponte per qualcuno. Vedete, sereno, poco nuvoloso, presenza di cumuliformi nel pomeriggio nelle zone montane per transito di nubi alte orografiche. Quindi, insomma, ci sarà un po' di stratificazione nuvoliforme. Vedete, le nuvolette sono due, quindi, insomma, l'intensità è media. Nel pomeriggio possibili di rovescio temporale, però più che altro nelle zone montane e nelle basse Marche. Le vedete qui nelle Marche Meridionali, però soprattutto sui rilievi. Sulla costa non compare la simbologia della pioggia. Le temperature in lieve aumento nei valori minimi stazionari o lievi in diminuzioni, quelle delle massime. Vediamo per domani, appunto, il giorno di festa e qui sulla carta, almeno, compare la simbologia della pioggia su tutta la regione. Nuvolosità mediamente intensa, quindi, vedete, parzialmente nuvoloso con aumento della copertura, però nel tardo pomeriggio, e questo è, insomma, un po' di speranza che ci danno, fino a cielo nuvoloso. Quindi, insomma, la mattinata e almeno la mangiata del mezzogiorno dovrebbe essere fatta in santa pace. Precipitazioni, appunto, dal pomeriggio inizialmente deboli, poi più diffuse e maggiormente intense nelle zone montane. E quindi le temperature sono in diminuzione nei valori massimi, insomma, quindi, praticamente, avremo un giorno del primo maggio, per chi ama fare le scampagnate, perlomeno nella mattinata e nel primo pomeriggio, dovrebbe essere in santa pace. Poi, insomma, correte ai ripari perché forse arriva la pioggia. Guardiamo i quotidiani, iniziamo dal Corriere Adriatico, vi porto subito nella pagina di apertura. Come vedete, apertura a tutto sport, tra Pesaro che ride, il Pesaro del basket che ride, ma quella del calcio piange, invece, perché la VL ha fatto una magia a Milano, invece la VIS ha avuto un tracollo e dice addio alla Serie C. Poi, altre notizie, naturalmente, c'è anche il Fano, festeggia con il Teramo 0-0, non è ancora salvo, non è ancora salvo, l'Alma Juventus, quindi, insomma, è tutto rimandato. Confcommercio rinnova le cariche, legge quattro donne nella sua giunta. Poi, primo maggio, c'è il mercato degli ambulanti. Chiedo scusa, è partita la pagina, eccola qua. Mercato degli ambulanti per, così, incentivare gli acquisti. E poi la Fondazione Carifano, chi entra e chi esce, bilancio 2017. Allora, vediamolo, insomma, il direttivo completamente rinnovato della Confcommercio, è eletto il gruppo dirigente, è confermato il Presidente Serra, nuovi consiglieri, forte incremento delle donne, che vedete qui in primo piano, la fanese Barbara Marcolini e poi l'altro fanese Luciano Cecchini. E, insomma, quattro donne, quattro componenti su sei della nuova giunta sono donne. Quindi, insomma, aumentata la presenza al femminile, rappresentate quasi 5.000 aziende, rilanciato il format dell'associazione. E qui, insomma, il programma, poi qui c'è tutto quello che verrà sviscerato durante la loro attività. Andiamo nell'altra pagina, quella degli ambulanti, come c'era il lancio dalla prima pagina, appunto, per accogliere i visitatori dei mercatini del primo maggio, oppure che fanno acquisti durante il giorno di festa. Gli operatori spiegano perché martedì e come ogni settimana si svolgerà il mercato a San Decenze. Quindi, insomma, noi lavoriamo il primo iniziamo, siamo stati così abituati in questo modo. E vedete qui fave e cacciotta, uno degli alimenti, delle combinazioni favorite per il primo maggio, appunto, per fare le scampagnate del primo maggio. Non mancheranno nei mercatini. Da Vallefoglia, la parrocchia di San Giovanni Bosco, un mese di eventi per festeggiare i 50 anni, la comunità di Osteria Nuova al lavoro, tra preghiera, spettacoli, recite e processioni. Ancora nella pagina di Urbino, però, c'è politica, grande fermento politico nella città ducale, sempre in primo piano la politica negli articoli dei quotidiani. Gostoli e Londèi alla Carbonara, non intesa, immagino, come piatto gastronomico, ma come associazione, insomma, seminascosta. Carbonara, la minoranza PD, però, quindi storce il naso, grande collezione. Ecco qui, nuovo incontro segreto, ma gli alleati non erano informati. Carrabs dice semplici dinamiche interne, città ideale, l'altra formazione civica dice a noi piace la luce del sole, quindi facciamo le cose che possano vedere tutti. E poi, malora sul Petrano, c'è cronaca, piede di pagina, soccorso in ambulanza, l'uomo era in macchina con la figlia di dieci anni, è stato portato a Urbino, colto da Malore, dopo una salita con la propria auto lungo la cittadina Cagliese, nei pressi del ristorante Il Grillo, il cinquantenne è di Cagli, appena sceso dalla vettura appunto si è sentito male, ma i soccorsi sono stati fortunatamente immediati. Fano, fondazione, si parla della fondazione Carifano, utile di 1,4 milioni di euro, erogazioni per 800 mila euro, l'Assemblea dei Soci approva, il segretario Rosati dice il risultato in linea con il 2016. Poi giorni di festa, giorni di feste, quindi attività balneari e baretti, controlli dei carabinieri che sanzionano il caffè all'Arzilla, contestato, spettacolo abusivo. Il titolare però dice abbiamo i permessi in regola. L'altra pagina che parla di Fano, così si crea un sistema salute in cui si cura solo chi ha i soldi, il protocollo d'intesa fra la regione e il comune di Fano per i servizi ospedaliere suscita reazioni contrastanti nel mondo della politica, in particolare il centro-sinistra fenese c'è malessere per la visione di una clinica privata a Chiaruccia, l'ospedale Santa Croce dell'azienda Marche Nord. Lettera aperta di un dirigente di area PD contro il riassesto ospedaliero. Quindi insomma non tutti sono d'accordo anche nella sinistra su questa visione di Ceriscioli della sanità regionale. Dalla Val Cesano, corrispondenza in forte ritardo, il sindaco protesta con le poste, le lettere arrivano con notevoli ritardi, oltre una settimana, caverni contro il metodo della consegna al giorni alterni e parte la lettera al prefetto. Questo succede nella Val Cesano. Cambiamo il quotidiano, andiamo nel resto del Carlino che fa un'apertura tutta diversa. Centro pagina, torneremo. Chi sono? Sono i fedeli di rinnovamento dello spirito che dall'Adriatica Arena dicono preghiere per 7.000, confermato il bis a novembre. Ecco perché dicono torneremo, torneremo a novembre. Oggi in movimento 140 bus insieme, tutti quanti insieme, in una foto dei momenti salienti di questa reunion. E poi VL, miracolo a Milano per la bis però delusione e lacrime. Anche qui stessi umori e stessi titoli. L'impresa rilancia la speranza di salvezza del basket, però la Serie C di calcio invece è una chimera dopo i rigori. Espluzioni e un pianto di paura dell'arbitro. E poi di spalla spuntano le vittime di mister Paguerò, chiameremo le Iene. E poi si parla anche della festa, naturalmente del primo maggio, che forse visti i morti sul lavoro, c'è poco da festeggiare, troppi morti e poi il nero sta dilagando. Meningite, allarmi in un asilo nido, migliora la bambina, profilassi per 60 soggetti, tutti i compagni, le maestre e i genitori. Eccolo qua, la pagina che parla, snocciolando come sempre i numeri. Vedete qui 15 vittime, sono 4.463 gli incidenti in sei mesi nel primo semestre, quindi picco di decessi e dipendenti in nero. Il primo maggio, le ombre del primo maggio, non solo festa, ma è il punto per i sindacati e per le associazioni di fare un po' il punto della situazione. C'è poco, quindi dicono, da festeggiare, visti questi numeri. La CISL dice che la regione deve spendere di più per gli addetti alla sicurezza, naturalmente, sul lavoro. Maurizio Andreolini dice che la precarietà porta in sicurezza, equazione che non possiamo permetterci. Malattie professionali in aumento, penso ad esempio alle 500 prese al giorno che fanno gli operai ecologici, gli operatori ecologici. Insomma, quindi sono malattie professionali derivate dalle attività lavorative. Eccolo qua, rinnovamento farà il BIS, quindi si sono trovati sicuramente molto bene, all'Adriatic Arena, in 7000 al Palace fino a domani, con 140 pullman su e giù, con la Romagna. Torneremo. Il movimento spirituale ha lasciato Rimini, dopo Lustri e l'astronave ha appunto funzionato. L'astronave sarebbe il palazzetto di Pesaro. Allarme meningite e quindi scatta la profilassi come da protocollo, migliora la bambina colpita, però ha attivato la procedura di sorveglianza sanitaria. Nell'altra pagina, adesso vi faccio vedere quelle dedicate allo sport, appunto, vince la paura, festa grande, ma salvezza rimandata. Questo è il risultato di Fano, Alma Juventus e Teramo. 0-0, un risultato dettato dalla paura, un match molto bloccato. I Granata e il Teramo hanno giocato a non farsi del male. Quindi, insomma, hanno giocato un po' con il braccino corto per cercare di evitare i danni. E la pagina, invece, del Corriere Adriatico, appunto, dice Affano, vince la paura, quello che vi ho fatto vedere prima era il resto del Carlino. Match bloccatissimo contro il Teramo e verdetto sulla salvezza, però è rinviato all'ultima giornata. Quindi, insomma, verdetto un po' al cardiopalma. E per quanto riguarda, invece, il resto del Carlino, Per quanto riguarda la Vispesaro, che getta le ortiche, il sogno della C. Rabbia per... dal sogno alla rabbia in 90 minuti, due rigori e due espulsioni. Spengono la luce bianconera. Vispesaro 1, Campobasso 2. E anche qui il Corriere Adriatico, molto eloquente nel suo titolo, è abbastanza chiaro. Dice Vispesaro, si butta via il sogno della C. Battuta al Benelli dal Campobasso, espulsi Cacioli e Radi. Prima Rossoni illude, poi due rigori. Persa la vetta alla penultima giornata. Nel mirino, come sempre, l'arbitro, che esce addirittura scortato e in lacrime. Anche il basket, per i due quotidiani, parlano qui, per quello che riguarda il Corriere Adriatico. Vedete questa bella foto. Miracolo VL a Milano, parafrasando il titolo del film. Miracolo a Milano, Emporio Armani, Milano 70, VL Pesaro 75. Questo è il risultato che regala il sogno ai giocatori e alla squadra di basket. Anche per il resto del Carlino si parla di uno sbancamento. hanno sbancato il forum, VL, roba da matti, Armani 70, VL 75. Miracolo, la zona di Galli incanta gli assi di Paiganini. E preso anche il vantaggio, naturalmente, ottenuto a denti stretti. Tenuto a denti stretti fino alla fine. Benissimo. Questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere. Come vedete, ampio spazio allo sport. Grazie per essere stati con noi in questo primo appuntamento con i giornali della settimana. Naturalmente, questo è il nostro numero in sovrimpressione. 338 49 68 250 per le vostre segnalazioni durante tutta la giornata. Quindi, usatelo se ritenete utile darci delle informazioni. Noi ritorniamo con la segna stampa domani mattina, puntualmente alle 7.30. No, domani mattina, il primo di maggio. Chiedo scusa. Torniamo mercoledì con, naturalmente, i giornali del mercoledì. Grazie e questa sera occhio alla notizia alle 20.30. Buona giornata e buon inizio di settimana a tutti voi. Grazie a tutti.